E non so se scendere a prendere i lingotti o stare qua sopra No sta venendo qua sta venendo qua Almeno se non sbaglio era lui No 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 allora lui è sotto Ce l'ho dietro Oh mio dio Scappa 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 veloce 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 Corro 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 No ma ce ne avevo uno accanto Oddio vabbè ma Guarda che lui è proprio zitto zitto non dice niente guardalo Dio no E salve a tutti amici io sono Rana Sgau E oggi sono in compagnia con Pixelman Lascerò il link del suo canale in descrizione Perché è uscito un video anche sul suo canale Andate a vederlo perché ci siamo divertiti Come dei matti ma prima Continuiamo con il video Ok ne ho ammazzato uno Spero che la gente non vi abbia visto Tu sei quello che deve chillare ora Sì Oddio vabbè ma Guarda che lui è proprio zitto zitto Non mi dice niente guardalo Dio no No ma la gente si ferma e mi guarda No vabbè Ma che cos'è non si ferma e mi guarda No ma è una cosa impossibile incredibile Guarda tutta la gente è morta per terra Mi ha detto Lightyagami si è diventato Che cos'è C'è il Death Note Guardalo lì con la spada Nessuno lo caga Guardalo No dov'è Guardalo Guarda che se prima o poi tocca a me ti giuro La prima cosa che c'è la prima persona sei tu Non mi frega niente Possono passami tutti quanti davanti possono passami ma la prima sei tu proprio Non mi frega niente adesso Non dovevi farmi questo rana Non dovevi Tadidore E' sopra e comunque Dove? Non è che è sopra di te E' sopra la tua testa guardalo Ma sta volando? No 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 è qua Guardalo Dove Eccolo Dove è andata la spada? Ah ok L'ho vista pure io Guarda! Ma puoi lanciare le spade? Sì Ma sei in serio? Vabbè scappo Ho ancora due minuti Rimane lì lui E' sempre là Non è Stai incorrendo quello là No 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 scherzo Dai che lo prendo Dai che lo prendo questo Dai 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 Mamma mia quanto corre questo? Guardalo lì Oi 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 Arriva Fa la curva stretta Boom con l'arco Attenzione E quello lì rimane su Non sta come Uh è stato droppato l'arco Eh ma dovevo Dovevo lasciarmi le La munizione Le munizioni della freccia Per shottare quello in alto Ecco Eh ma tanto questo qua Da lì non si muove Cioè sta continuando A rimanere qua per dirti Meglio meglio Tanto io l'oro per terra Perfetto Ah no aspetta Ma ce ne sono due Sopra Non ce n'è uno Come l'ho mancato? C'è l'arco Fai attenzione C'è l'arco Lol L'ho mancato in un modo incredibile C'è il mio cadavere Lì per terra Poverino Bello No ma Aspetta un attimo ma Dimmi Per caso L'ho visto Per la mappa No vero No Volevo schivarlo Cosa? Eh no perché C'è tipo uno Steve Messo non so dove Ok boh Era un player Non l'avevo capito Pensavo fosse un Eh ma mancavano ancora Quattro innocenti Erano nascosti in giro Ok Vabbè niente male Mi sono fatto la mia serie di decisioni Ebbè GG per te Invece la moto è tutta quanta per me Però va bene Va bene Va bene Va bene Però Forse Sopo chi è Ok Uh ti ho visto da sopra Sai ad andare sopra Che lì sei più Eh con le scale Tale Ok Oh 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 cazzo No 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 Dove sei? Dove sei? E' uno che c'ha la skin di Di Nobita C'ha la skin di Nobita Ah si l'ho visto Che va Lì bracine piccole Ha fatto fuori tutto Madonna Ma abbiamo passato vicino Prima E' sotto comunque C'ha la skin di LOL C'è la skin di Nobita Che va a fare l'assassino Va bene Va bene proprio Gli sono sopra ora Ma c'ha spade A go go Tutti oh Li fa fuori tutti In fondo Eh non so se scendere A prendere i lingotti O stare qua sopra Eh ti dico No sta venendo qua Sta venendo qua Almeno se non sbaglio Era lui No 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 Allora lui è sotto C'è lui dietro Oh mio dio No vai vai Scappa 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 Veloce 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 Corro 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 No ma ce ne avevo uno accanto Cazzo Rip Vabbè Vabbè Hai iniziato a laggare malissimo Grazie gioco Grazie Giro con Oh cazzo Chi è che mi ha ammazzato Ma è stato scemo Perché sono andato incontro a te Ma perché Mi stavo seguendo Ma perché Ma mi hanno one shotato a caso Eh sì Con la spada E noi siamo a petto nudo E siamo Comunque Di al pubblico a casa Cosa porti nel tuo canale Allora Nel mio canale Porto principalmente Overwatch E adesso Ho ricominciato A riportare Minecraft Così Perché mi Stava di nuovo Ah così a caso Sì Perché ho detto Ma sì dai Riportiamo Minecraft Ho detto che Non so Mi piaceva come gioco Solo che Non aveva tanta visibilità E ho detto Vabbè Lo lascio stare Continuo Ah ok Allora Facciamo il parkour Oddio È proprio sgiamato Nella cosa che Non so fare In Minecraft Eh manco io Bene Bene Ok Uh Ok Se restiamo qua Dovremmo essere Dovremmo sopravvivere Dovremmo A patto che uno di noi Non sia l'assassino Adesso Adesso mi ha dato La spada Adesso me l'ha data Lezzo Lezzo proprio Corrotto A livelli Assun Ma da dopo Me l'ha data La spada Non pensavo Cioè Ma non mi ha nemmeno detto Che ti ha scritto Che eri l'assassino Ma no Pensavo che Ma che cavolo Ne so Ho detto Ma sì Sono il detective Non l'ho capito C'è Ma c'è scritto in rosso All'inizio Tipo sei assassino Ah ma dove volevo dire quello Ah ok C'è scritto murder Ah vabbè Eh no Allora scusa Che c'era il cartello su E non avevo letto niente Tutta tattica Tutta tattica Mi è dato Jason Sono diventato Io praticamente Hello Ammazzali Jason Ciao raga Ciao Donna C'è la strage C'è la strage Sono Jason Sono Jason Sono Jason Sono Jason C'è un altro Rincollilo Nooo Lui lanciargli la spada Ma che cacchio siamo C'è un tasso destro Sì E cazzo dimmelo Ma dai rana Infame pure tu E la nostra vendetta Eccolo Vabbè dai Sono Jason Per un secondo Va benissimo Sono contento Però adesso C'ho più possibilità Di diventare Detective Adesso E io detective 13% Marder 5 Ah no Cazzo Non si può andare nell'acqua No 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 Le scale Sì No No Sì le scale Oh Le scale Un cuore Non sapevo Un due cuore Non sapevo Oddio Ma dai Ma chi cacchio Lo sapevo Mettetelo un cazzo di cartello Mettetelo Dannazione Mettetelo Quello non è Uh L'ho visto anche Hai fatto cadere un tizio nell'acqua No serio Se l'hai alzato adesso No 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 Sono qua dietro di te io Ah ecco ti 6 secondi 5 4 3 2 1 E abbiamo vinto E abbiamo vinto Rimango vivo per una volta Sì Va bene ragazzi Questo episodio è tutto Abbiamo registrato Tanta roba Che poi diterò In 5 minuti Di video E niente Se vuoi dire qualcosa Ma niente Guarda È stato davvero bello Registrare con te Sei simpaticissimo Continua così E che dire Se vi va Passate anche dal mio canale Shalla Mi spammo anche Sì infatti Passate anche dal suo canale Ciao a tutti 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 Grazie.